La bomba d'acqua abbattutasi nel pomeriggio ha provocato danni e disagi in molti comuni irpini. Dalla Valle Caudina alla Valle del Sabato sono stati centinaia gli interventi assicurati dai vigili del fuoco. A preoccupare sono stati soprattutto i corsi d'acqua, fiumi e torrenti che in alcuni casi hanno messo in apprensione le comunità. Le immagini che vediamo si riferiscono a località Tufarole ad Avellino dove un'auto a stento è riuscita a evitare il peggio. Nella zona protestano i residenti, ogni qualvolta piove, dicono, il torrente deborda invadendo il ponte e minacciando anche le abitazioni. Una situazione di pericolo segnalata più volte in passato al comune e ai tecnici dei vigili del fuoco. Le campagne dopo l'inondazione sono state gravemente danneggiate dal fango che ha invaso le colture. Un appuntamento ormai fisso con il disastro anche sul ponte delle Filande a Piano Dardine, Travellino e altri pad. Anche in questo caso il fiume, sotto i colpi violenti della pioggia, complice l'incuria in cui giace il corso d'acqua, è esondato fino a invadere la strada. Fortunatamente non si sono registrati danni e feriti, ma la viabilità è stata interrotta per permettere gli interventi di rimozione dei detriti. È stato il tempestivo intervento dell'imprenditore Nicola Pastore, a bordo di un mezzo della sua impresa di polizia, a sgomberare l'asfalto e il torrente dai detriti. Grossi tronchi e carcasse che avevano ostruito il corso d'acqua fino a farlo esplodere pericolosamente in superficie, mettendo così a serio rischio le auto e i pedoni in transito. Sul posto sono intervenuti anche Polizia Municipale, i carabinieri e i tecnici dei comuni di competenza. Da anni si attendono i lavori di messa in sicurezza del ponte delle Filande da parte della provincia. Un progetto mai reso esecutivo, nonostante gli annunci delle istituzioni. Disaggia anche negli alloggi comunali di Via In Bimbo ad Avellino, dove alcuni condomini hanno lamentato copiose infiltrazioni d'acqua, un'emergenza con cui convivono ormai da sempre.